Tre anni fa dovevamo salvare il mondo noi della logistica, oggi non sanno neanche chi siamo, non ci hanno fatto una legge a nostro favore dopo il Covid, si sono dimenticati che esistiamo, come sempre. Ospite oggi di interview Danilo Merlo, amministratore delegato di Alpi Service Freight, società internazionale associata ad Alis, attiva nel settore del trasporto e spedizioni. Il grido d'allarme di Merlo è rivolto all'Europa e a un cambio di passo nelle politiche comunitarie per il trasporto, ascoltiamolo. Cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo che l'Europa inizia a legiferare con una certa cautela, ma soprattutto che sposti la burocrazia, una cosa che è diventata impossibile da sostenere, ma soprattutto che aiuti un paese come il nostro, che aiuti i nostri armatori, che aiuti le nostre aziende di trasporti, che possano competere con gli altri paesi, perché è molto difficile per noi competere oggi. Abbiamo dei target per quanto riguarda anche i carburanti alternativi. Ottimo, noi abbiamo già utilizzato, stiamo già utilizzando il carburante HVO. Io sono dell'idea che l'elettrico non è percorribile, l'idrogeno ne parliamo del 2035-2040 perché ci vogliono dei tempi lunghi, e ci vuole tantissima energia per fare questo. E l'HVO può essere un ottimo risultato, che non è inquinante e permette a tutti di lavorare. Però ripeto, come ho già ripetuto prima in una conferenza, dobbiamo aspettarci dall'Europa un aiuto importante economico che ci permetta di affrontare la transizione ecologica. Questo è il pensiero di Danilo Merlo, amministratore delegato di Alpi Service Freight. Appuntamento a domani per una nuova interview al personaggio del giorno.